Non c'è una legge di zonificazione che deve regolare, regolare in zona qui in Aruba e non c'è una legge che l'ex-ministra Odeber tra l'arriba e l'arriba qui. Algo che l'ex-ministra si vengono a negliare fuori e l'arriba è una legge per curare e zonificare Aruba e non c'è un conflitto di più, in modo che l'arriba, con l'arriba, con lo che ho menzionato, per capire che l'arriba è un'area che non è inattiva e ci sono molto chiaro e per il futuro con l'arriba che si vengono. Oggi è un'area che sia in una zona residenziale che non si vengono a che fare, ci sono un'area che non si vengono, ma anche se è parte di un'area di hand-having, per curare e le cose che si vengono a controlo. Il nostro focus è qui, per contestare la vostra domanda, è stato pronto a condizionare di quali un'area di Aruba per costruire, e qui c'è un stop per sicuro per curare per la più harmonia, ma è differente a questa area di Aruba. Per esempio, a zona commerciale, a zona turistica, a zona residenziale, a parte naturalezza, medioambiente, come per cuida, eccetera, eccetera. Quindi, se c'è qualcosa che nel futuro, ora gente non va a fare terreno, sia per costruire il progetto, non lo tiene estricamente conto con. C'è un'acuer di gobernazione, e c'è un'obiettivo di fijare che è priorità, è una parola, però abbiamo anche partito per, con l'ancra sufficiente, è priorità, non è un'acuerza qui. C'è un'acuerza di infrastruttura e medioambiente, così non continui con il manejo che c'è, che è un'acuerza di più stricte, più amplia, e, magari, con il manejo nuovo, che è necessario, è questa responsabilità di un ministro, e il Parlamento, anche, per controllare, arriva e parte, anche, se è un'acuerza di manejo che c'è. E mi penso che, qualcosa che è importante, va a menzionare, cosa che non è corretto nel transcurso di anni, è che la legge di integrità non è solamente per ministri, per politici, per amtenere, per dienstri, per se è un'acuerza di dei suoi due al mondo, che non è una sorta di situazione, perché, ovviamente, non è un problema di controllo, ma non è una strada di trattamento, perché non è una strada di trattamento, per percorrere la procedura, che è un'acuerza di una legge, è una persona di una responsabilità, e questo è un'acuerza di enfatizzare, è un'acuerza di fare, per per rispondere, per eserare, Grazie a tutti.